buongiorno buongiorno a tutti che si dice ragazzi oggi ne offre un esperimento patatine al wasabi nari ari 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 è morta secondo me vanno al secchio immediatamente secondo me allora sicuro che no aspettate da qua giù il telefono a cascavano speranza è fatta male ok bene peccato la testa ora meno la faccio allora cosa che non c'è l'odore ci sta a me il giapponese piace e tutte lo sapete per chi me conosce a me Sì Dite voi che assomiglia questa forma non l'ho fatta io Hanno vinto Se vi piace il whatsapp Andate a comprare Hanno vinto E se non da forever 2,99 euro a pacchetto Considerando che il wasabi è ben bilanciato Non a tutti piace il ticcante Appi come te ne bella ma bene Alligato Sopre canale la prossima challenge Bye love